Farfallina edizioni musicali presenta Speciale Televisivo 2024 Artisti, discografia, show, spettacolo e tanta buona musica Che la serata abbia inizio! Farfallina edizioni musicali presenta Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. È speciale Farfallina è qui a Canal Italia nello studio 12. Cumbia Space, energetica proprio Space. Massimo della Bianca. Massimo della Bianca. E Giuseppe Spinelli. Vai signori.